Nella sede di Regione Lombardia, tre giorni dedicati alla mobilità sostenibile, alle auto elettriche e MOB, seconda conferenza nazionale sul tema. Regione Lombardia, come sostiene questo cambio culturale a favore della mobilità elettrica? Ma è uno dei sicuramente obiettivi che ci siamo posti all'inizio della legislatura, perché tra le altre cose la nostra Regione, come per il vero tutta la zona padana, è in una situazione di difficoltà per quanto riguarda la qualità dell'aria. È una questione di carattere geografico, noi siamo un grosso bacino per cui purtroppo qui ristagnano tante sostanze inquinanti. Una parte dell'inquinamento deriva dalla circolazione degli autoveicoli, non è l'unica, è una parte. Dovremmo fare la nostra parte per cercare di risolvere o quantomeno di ridurre questa fonte di inquinamento. Sicuramente l'auto elettrica è il futuro, ma proprio recentemente parlavo con anche grosse imprese che vogliono investire nella infrastrutturazione di tutta la Regione, addirittura con quelle centraline del futuro, quelle che ci mettono pochi minuti ad effettuare una carica. Penso che sia una strada che noi dovremo sostenere in tutti i modi. Anche quest'anno Cobat ha deciso di sostenere all'interno del Comitato Promotore e Mob. Momento importante per promuovere la cultura della mobilità elettrica, della mobilità sostenibile. È tempo di bilanci ora, Chiara. Come è andata? Beh, assolutamente bene. Abbiamo visto negli anni un crescente interesse e questo non può che dare merito a tutte quelle associazioni, comuni, la Regione che si è spesa moltissimo per cercare di fare questo cambio culturale necessario alla nostra nazione. Siamo arrivati ad un livello che non è più sostenibile, dobbiamo fare qualcosa per togliere l'inquinamento nelle nostre città e la mobilità elettrica è sicuramente il futuro. Inoltre i numeri ci hanno dato grossa soddisfazione perché qui ai Mob quest'anno sono venuti a trovarci oltre un milione di visitatori. Abbiamo avuto l'attenzione, la forte attenzione della stampa, abbiamo avuto gli operatori del settore tutti presenti, sia come case automobilistiche che presentano i modelli elettrici, sia come gestori delle reti, sia distributori e produttori di colonnine elettriche e ovviamente poi Cobat che è sempre attento a quelle che sono le attenzioni che il paese deve avere verso l'ambiente e non potevamo ovviamente mancare. E Mob promossa quindi? Assolutamente sì e pronti per lavorare per il prossimo anno. Grazie a tutti.